Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari ovviamente, sentiremo poi in settimana nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. È finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Luca Marcheggiani.